Vi hanno regalato una stella di Natale, ma dopo poche settimane questa comincia a sfiorire e a perdere le foglie. Dite la verità, succede anche voi. In questo video vediamo come curarla per farla vivere bene a lungo anche dopo le feste, magari farla resistere anche fino all'anno prossimo, fino a Natale prossimo. Lo vediamo insieme. E' utile sapere innanzitutto che la stella di Natale è una pianta originaria dal Messico. In realtà noi siamo abituati a vederla in vaso perché ce la vendono così, ma sappiate che si fanno anche delle siepi alte sino a 3 metri, siepi bellissime, molto colorate, soprattutto in climi diversi un po' dal nostro. Diamo prima un'occhiata per capire come è fatta la stella di Natale e poi vediamo come farla durare a lungo adottando alcuni accorgimenti molto semplici. Allora intanto vediamo che i fusti di cui è composta sono generalmente sottili e legnosi. Da questi in inverno nasce il fogliame di colore verde. Alcune di queste foglie col tempo si trasformano, in questo periodo dell'anno soprattutto, noi siamo abituati a vederla adesso a dicembre, assumendo il colore rosso che tutti conosciamo e che spesso cambiamo per fiori. In realtà sono proprio le foglie trasformate che prendono il nome di Bratte. I veri fiori sono piccoli, di colore giallo o verde e sono senza petali e non li apprezziamo. Generalmente nascono tra il fogliame, non è una pianta famosa per i suoi fiori. Sappiate che sul mercato, negli ultimi anni soprattutto, oltre alla colorazione rossa a cui siamo tutti abituati, ci sono altre colorazioni bellissime. Ci sono viola, variegate, bianche e soprattutto quella bianca a mio avviso è molto molto bella. Sono più difficili da trovare ma ci sono, soprattutto nei centri, nei garden un pochino più attrezzati. Ora cominciamo ad affrontare il discorso della temperatura. Una delle caratteristiche della stella di Natale, per la quale siamo abituati a vederla in casa e non in giardino, è che la temperatura, per farla vivere bene, è generalmente molto alta. Con temperature inferiori la pianta va in sofferenza. Cosa succede se abbiamo temperature inferiori ai 12-15 gradi? Generalmente la pianta comincia a perdere le foglie. La temperatura bassa, però, non è l'unico problema a cui può andare incontro la stella di Natale. Ad esempio, la stella di Natale non sopporta le correnti d'aria, ecco perché andrebbe posizionata in luoghi protetti, in stanze luminose, ma non alla luce del sole diretta. Occorre quindi trovare un luogo con temperatura compresa tra 18 e 22 gradi, senza correnti d'aria, luminoso, ma con esposizione non diretta alla luce del sole. Se teniamo la pianta in appartamento, un altro pericolo per la stella di Natale è rappresentato dalle fonti di calore che normalmente abbiamo nelle nostre abitazioni, ovvero termosifone, stufa, caminetto. Bisogna fare attenzione a non posizionarla nelle loro vicinanze. Quindi, ricapitolando, la stella di Natale tenuta in casa soffre se si verificano le seguenti condizioni. Temperatura inferiore ai 12-15 gradi, temperatura superiore ai 22 gradi, fonte di calore dirette come termosifoni, stufe e caminetti, correnti d'aria, eccessiva o scarsa irrigazione. Parliamo adesso dell'irrigazione. La pianta teme sia il ristagno idrico dovuto all'eccesso di irrigazione, sia la siccità. Andrebbe bagnata poco, così da avere sempre il terreno lievemente umido. Questo periodo invernale si traduce in una irrigazione settimanale, basta una volta a settimana. Ovviamente, se abbiamo la fortuna che riusciamo a farla arrivare in primavera e in estate, dobbiamo aumentare la frequenza dell'irrigazione. Se l'ambiente in cui teniamo la pianta è molto secco, quando la si innaffia, si può nebulizzare un leggero velo di acqua sulle foglie, senza esagerare, altrimenti si possono incorrere malattie fungine, che vedremo più avanti. Quando sarà il momento di rinvasare la pianta, lo vediamo dopo, dovremo utilizzare un buon terriccio per acidofile. È buona norma mettere qualche centimetro di argilla espansa sul fondo del vaso e mischiare il terriccio per acidofile con un po' di sabbia, al fine di favorire l'effetto drenante. Torniamo adesso al discorso che abbiamo accennato prima sull'irrigazione. Quale acqua utilizzare per enricarla? Sembra una domanda di poco conto, ma non lo è in effetti. L'acqua di rubinetto va benissimo, ma dobbiamo tenere conto di due fattori, la presenza di cloro e la temperatura bassa. Entrambi i problemi sono facilmente risolvibili, per il cloro basta far decantare l'acqua per una notte, mentre si fa quest'operazione l'acqua raggiungerà la temperatura ambiente, che è quella ideale per non rovinare la pianta. Fate attenzione che se avete l'acqua molto calcarea, questa può macchiare le foglie, quindi per ovviare questo problema o non si bagnano le foglie o si usa l'acqua filtrata, quella che si usa per i ferri da stiro. Sempre se siamo fortunati che siamo arrivati in primavera e in estate con la pianta ancora viva, è il momento questo di cominciare a concimarla. Quindi da aprile a ottobre la pianta va concimata in modo costante, una volta ogni due settimane con del concimo e liquido per piante, che lo trovate in tutti i garden. E' altresì importante sapere che in autunno e in inverno, cioè nel periodo in cui praticamente le compriamo, nel periodo della fioritura, la stella di Natale non va concimata. Ora facciamo finta che la stella di Natale che ci hanno regalato l'anno prima è arrivata a ottobre, siamo riusciti a farle passare l'anno. Per far sì che nel periodo natalizio la stella di Natale fiorisca, e che quindi oltre ai fiori faccia anche le foglie rosse, occorre fare in modo che da ottobre a dicembre la pianta abbia a disposizione più ore di buio rispetto alle ore di sole. Quindi se la si tiene in casa, occorre predisporre il buio totale dal tardo pomeriggio, cioè dalle 17 circa, sino all'alba, verso le 6 e le 7. Per buio totale si intende che non va accesa nemmeno la luce. Contemporaneamente bisogna garantire alla pianta una temperatura costante e compresa tra i 16 e i 20 gradi, facendo attenzione alle fonti di calore che abbiamo visto prima. Ora prendiamo la nostra situazione, che acquistiamo la stella di Natale nel periodo natalizio. Dopo Natale generalmente cominciano a cadere le foglie. Non si butta la pianta una volta che le foglie sono cadute, perché si può ancora riprendere. Con un po' di cura è possibile far sopravvivere la pianta sino al Natale successivo. E tra le operazioni da fare ci sono quelle che vi ho detto prima, che vi ho elencato. La stella di Natale non va tenuta sempre in casa. Quando le temperature esterne superano i 16 gradi costanti, anche di notte, è possibile posizionare la pianta all'esterno, in luogo riparato dal sole e dal vento. Si parla quindi di primavera e estate, generalmente da aprile in poi, poi dipende dalla regione in cui siamo. Dopo la fioritura invernale, la pianta non va più innaffiata. Si comincerà di nuovo in primavera e estate. Le operazioni da fare in primavera sono potatura, rinvaso, irrigazione e concimazione. A partire da aprile, la stella di Natale va rinvasata in un vaso più grande. Occorre dell'argilla espansa, come vi ho detto prima, da mettere sul fondo. Prima di fare questa operazione, la pianta va potata, ovvero si eliminano i rami e le foglie secche e si accorciano i rami più lunghi, per dare vigore alla pianta. ricordiamoci che nel periodo primaverile ed estivo la stella di Natale va a riposo vegetativo, quindi è il contrario delle piante che abbiamo normalmente fuori in estate. Dobbiamo sapere però che la stella di Natale va maneggiata con cura, perché quando la si pota, la stella secerne un liquido che può essere urticante, quindi sarebbe meglio usare dei buoni guanti da lavoro, quindi non toccare il liquido che viene prodotto dai tagli della potatura. Anche chi ha i gatti, come sottoscritto, dovrebbe proteggere la pianta con una rete metallica affinché gli animali non vi si avvicinino, in quanto la sostanza lattiginosa prodotta dalla pianta dopo la potatura è per loro nociva. Bisogna fare attenzione su questo punto. Dopo la potatura e l'invaso occorre controllare spesso l'umidità del suolo. La terra non deve mai seccarsi, quindi bisogna innaffiarla con maggiore frequenza, ma attenzione, la terra non deve mai essere zuppa di acqua. Ovviamente poi comincia la fase di concimazione, una volta di due settimane con un buon concime per piante o per fiori. Se vi volete cimentare nella riproduzione della stella di Natale, sappiate che le stelle di Natale si riproducono per talea, vanno bene anche in rami legnosi, il periodo migliore è la primavera, da aprile in poi. Quindi nel momento in cui si fa la potatura, se si ha un bel ramo, si può provare a fare la talea. Si tagliano pochi centimetri dalla parte alta in un ramo vigoroso, di circa 10-15 centimetri, si eliminano le foglie sottostanti, si tagliano a metà le foglie superiori e si scortica la base. Ricordiamoci di utilizzare i guanti, perché viene prodotta questa sostanza lattiginosa urticante. Poi bisogna immergere il rametto in acqua tiepida per qualche ora. Quando la produzione del lattice è terminata, si immerge il rametto nell'ormone radicante e quindi lo si infila nel terreno, all'interno di un vasetto. Con un po' di fortuna si avrà una nuova piantina per l'anno dopo. Vediamo adesso le malattie e i parassiti principali della stella di Natale. Anche le stelle di Natale possono essere attaccate dai parassiti, come gli afidi, che già abbiamo visto sulle rose. Vi mostro qui la copertina del video. Ce ne accorgiamo perché le foglie cominciano ad essere appiccicose. In tal caso, gli afidi si possono rimuovere manualmente se l'attacco è controllato e poi si possono detergere le foglie con un panno morbido, umido e del sapone di marsiglia puro se l'infestazione è massiccia con il setticida a base di piretro. Ma questa è l'ultima spiaggia. Se invece è presente la cocciniglia, ce ne accorgiamo per la presenza di macchie scure sulla parte inferiore delle foglie, quindi bisogna sollevare le foglie e controllare sotto. Anche in questo caso si usa un panno morbido, umido e del sapone di marsiglia o il solito insetticida al piretro. Se invece sono le foglie rose, cioè le bratte, che abbiamo visto prima, ad avere macchie di colore grigio, potrebbe avere fatto capolino alla botrite, una malattia fungina che lascia una polvere grigia anche sul resto della pianta. In tal caso occorre far respirare la pianta e diminuire l'umidità del terreno. Bisogna eliminare le foglie maggiormente colpite e diminuire le innaffiature e non è detto che riusciamo a salvarla. Si può provare a trapiantarla con del terriccio nuovo. Va detto però che non sempre questi rimedi sono sufficienti a salvare la pianta. In tal caso bisogna eliminarla con tutto il terriccio. Vediamo adesso quali sono i problemi se si dà troppa o poca acqua. Avevamo detto che le innaffiature sono responsabili di una gran parte di problemi. Se sono insufficienti si vedrà una pianta senza vita e floscia. Se sono eccessive vi saranno foglie macchiate e nuovamente sofferenza della pianta a caso del terreno troppo bagnato. Infine, se l'ambiente è troppo secco ne soffriranno i bordi delle foglie che tenderanno a seccarsi. Le cose da fare per mantenerla in vita questa pianta non sono molte quindi ricapitolo non a fonti di calore e da correnti d'aria buio totale per più ore rispetto alla luce nel periodo che va da ottobre a dicembre come abbiamo visto prima e cercare di avere un'irrigazione corretta per mantenere il terreno umido ma non bagnato e non secco. Bene, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Mi scuso se vedrete soltanto delle foto prese dal web ma ho ritenuto opportuno fare così per farvi vedere le varie fasi di lavorazione e di cura di questa pianta. Io a casa ne ho una ma non posso avere in un video tutte le riprese rispetto a quello che vi sto dicendo quindi ho preferito prendere spunto da più foto fare un collage e farvi vedere un attimino le varie fasi del tempo di questa pianta qui di questa bellissima pianta. Bene, vi ringrazio per essere stati con me se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like vi invito anche a iscrivervi al canale di cliccare sulla campanella così rimanete in contatto con me e con i video che faccio periodicamente se avete consigli da darmi per integrare questo video scrivetelo pure qui nei commenti ve ne sono grato vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo